Prima linea salute, seconda parte della nostra trasmissione. Presentiamo innanzitutto gli ospiti, il dottor Erminio Costanzo che dirige l'unità operativa di neurologia, l'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania. Bentornato anche il professore Maurizio Di Mauro che insegna diabetologia all'Università di Catania ed è responsabile del centro di diabetologia del Policlinico. Da quest'altra parte dello studio, vicino al medico di famiglia, c'è il dottor Roberto Marziolo che è responsabile del centro sclerosi multipla, sempre del Cannizzaro, il dottor Domenico Patanei che è responsabile della radiologia interventistica dello stesso ospedale e ancora Cannizzaro, dottor Giuseppe Cacciaguerra, dirigente medico della chirurgia vascolare. Buonasera. Parleremo di metodo Zamboni. Iniziamo infatti proprio da questo. Anzi, andiamo al 2009 quando questo professore Paolo Zamboni di Ferrara con un articolo scientifico pubblicato appunto in quell'anno ipotizzò per la prima volta un legame tra la sclerosi multipla e la cosiddetta CCSVY cioè l'insufficienza venosa cronica cerebro-spinale. Un corretto, anzi un non corretto flusso di sangue a livello dei vasi del collo, del torace, della colonna vertebrale potrebbe causare un aumento del deposito di ferro nel cervello e poi anche danni correlabili alla sclerosi multipla. Però saranno gli specialisti a chiarirci tutto. Vediamo questa scheda introduttiva curata da Ramona Conte. E' partita in questo 2012 una sperimentazione su 60 pazienti con sclerosi multipla per capire quanto sia efficace il metodo Zamboni-terapia per curare la patologia detta anche sclerosi a placche la cui validità divide da tempo la comunità scientifica nazionale e internazionale. L'indagine potrebbe arrivare così negli ospedali pubblici già dall'anno prossimo anche se in molti reparti, anche siciliani, viene applicata da tempo. Sull'asse Bologna-Ferrara si parte con la prima applicazione pubblica del protocollo che è recentemente tornato d'attualità anche grazie all'inchiesta di Bernardo Jovine andata in onda sul report. Il metodo studiato da Zamboni, direttore del Centro Malattie Vascolari dell'Università di Ferrara si basa sulla possibile relazione tra la disfunzione vascolare delle vene giugolari e la sclerosi multipla, malattia che in Italia riguarda 60.000 persone. Il problema, secondo Zamboni, sorge quando queste vene sono ostruite dilatandole con un palloncino e ristabilendo il normale flusso del sangue si sono ottenuti risultati molto incoraggianti e sono molte le persone che assicurano di essere tornate a una vita normale. Ma la comunità scientifica, a partire dalla Società Italiana di Neurologia ritiene che non ci siano elementi ancora sufficienti per ritenere valido il metodo. Dottore Marziolo, che cosa è cambiato da quell'articolo uscito nel 2009 da parte del professore Zamboni nella cura naturalmente, nell'approccio alla paziente con la sclerosi multipla? Sì, è chiaro che già in tre anni è cambiato moltissimo perché un'ipotesi vascolare della sclerosi multipla era stata vista quasi 150 anni fa, però poi era stata del tutto abbandonata. Tanti autori si sono cimentati nel valutare la presenza di questa insufficienza cerebrovascolare venosa a carico dei vasi del collo e sono numerose le evidenze che ci fanno vedere che numerosi pazienti affetti dalla malattia, anche sin dalle fasi iniziali di malattia hanno delle alterazioni anatomiche correlate a carico delle vene. L'ipotesi è estremamente semplice, si vede che le alterazioni tipiche della sclerosi multipla alle cosiddette placche sono presenti a livello periventricolare dove sono delle piccole venule che raccolgono il sangue venoso. Ebbene, secondo l'ipotesi Zamboni ci sarebbe l'ostruzione che provocherebbe un ristagno di sangue a carico delle vene il ristagno di sangue altererebbe le giunzioni strette tra questi vasi per diapedesi, quindi per fuoriuscite i globuli rossi perderebbero del ferro questo ferro si accumulerebbe, farebbe da sostanza ossidorriduttiva che poi innescherebbe la reazione immunitaria caratterizzata dall'arrivo dei linfociti T che sono le cellule che dovrebbero difenderci dalle infezioni ma in questo caso non sono in grado di riconoscere quello che appartiene all'organismo da quello estraneo e innescherebbero appunto così la cascata infiammatoria. Secondo quest'autore appunto la disostruzione dei vasi del collo comporterebbe una diminuzione di accumulo di carico di lesioni nell'arco degli anni una diminuzione del numero diciamo di ricadute e questo considerando che è una malattia cronica comporterebbe un prolungamento della fase attiva appunto dell'ammalato piuttosto che arrivare appunto precocemente a quella che è la disabilità importante che la malattia comporta. Lei ha usato sempre il condizionale, qual è l'atteggiamento della comunità scientifica Sì, l'atteggiamento è molto cauto, molto cauto perché di fatto appunto a parte i lavori di Zamboni l'altra comunità scientifica